Lei arriva da? Da Melzo e sono andato a Romano in Lombardia e viceversa. Ha ottimizzato i tempi? Un quarto d'ora, da casella a casella un quarto d'ora con la strada normale e quindi mezz'ora diciamo da ufficio a cantiere e strada normale più di tre quarti d'ora. Da dove arriva? Da Napoli. Da Napoli? Sono sceso a Linate e adesso vado in ufficio. Quindi ha fatto la rivoltana? Esatto, sono arrivato a Linate un quarto d'ora fa, è favolosa questa strada, anzi ci si arriva in brevissimo tempo. Entra dove? Entro di solito a Chiari o a Calcio e poi la prendo la sera andando a casa. La trova utile? Utilissima, veramente. Piuttosto che le code e le rotonde? Piuttosto che fare la che è sempre a coda e non coda, bellissima veramente. Arrivo dalla Valtellina io. Quindi ci faccia un po' brevemente il percorso che ha fatto lei oggi. Allora, ho fatto la superstrada, cumulecco, poi in tangenziale sono uscito a Linate e adesso devo andare a Cassano. Quindi da Linate ha preso la rivoltana ed è entrato? A Liscate? Liscate, sì. Insomma nel complesso come le sembra? Bello, bello, piacevole, si viaggia tranquillamente. Da dove arrivate? Da Romano di Lombardia. Avete fatto la Brebemi, pezzettino di Arco Tem per uscire qui a Pozzuolo Martesana? Sì. Come vi sembra? Vuota. Però? A posto. Si può fare in termini di tempo un calcolo sul risparmio rispetto a prima? A quando non potevate usare queste strade? Quanto risparmiate di tempo? Sulla Bergamo-Brescia, cioè sul Milano-Brescia sarà un 20 minuti di risparmio. Non è male? Non è male, no. A pochi giorni dall'apertura dell'Arco Tem, la gente comincia a comprenderne l'utilità. Rivoluzionaria, potremmo dire, in un'area che viene ridisegnata proprio dall'Arco Tem e da Brebemi, la direttissima Brescia-Bergamo-Milano da 62 chilometri. Ingegnere, alle sue spalle il casello di Pozzuolo Martesana che dà ufficialmente accesso all'Arco Tem. Sì, esatto. Qui ci troviamo nel piazzale del casello di Pozzuolo Martesana. Da qui chi percorre la Cassanese potrà accedere al tratto di Arco Tem che viene aperto e procedere poi o fino agli scate o prendere l'autostrada Brebemi e proseguire poi verso Brescia. Il casello è completamente automatizzato? Il casello è completamente automatizzato. Ci sono 12 porte e una di queste è attrezzata anche per poter avere un operatore per il pagamento in manuale, ma tutte le porte sono predisposte per il funzionamento automatico. Due di queste sono dedicate ai mezzi eccezionali. Imboccare Arco Tem è semplice. Al casello di Pozzuolo Martesana si accede dalla strada provinciale Cassanese in via di riqualificazione per il raddoppio delle corsie. Stesso discorso per l'altro casello aperto al momento, quello di Liscate. In quel caso la strada provinciale che si imbocca da Milano Sud, nello specifico da Linate, è la Rivoltana, che sempre da Liscate, per chi esce dalla Brebemi, conduce a Milano. Siamo riusciti sostanzialmente in due anni a completare questa prima tratta funzionale che sono circa 7 chilometri. Ha coinvolto una quantità incredibile di aziende industriali che sono riuscite comunque nei temi a completare questo progetto. Era necessario che fosse completato in forza della penetrazione in Milano di Brebemi e di conseguenza non sarebbero stati possibili differimenti rispetto al programma che era stato adottato. Questo permette di ridisegnare un po' la viabilità del nord? Sicuramente sì, atteso che comunque attualmente l'ingresso verso Milano viene fatto a mezzo di due provinciali riqualificate ed adattate a volumi diversi rispetto a quelli che sta gestendo oggi, ma che comunque chiaramente non è viabilità autostradale. Il sistema andrà in efficienza, se posso usare questo termine, con il completamento della TEM, sostanzialmente, quindi le due interconnessioni con la 4 e con la 1. 2,2 miliardi l'investimento complessivo per tutta la tangenziale S esterna, per la quale il presidente Morerio ha alcuni ringraziamenti da fare. Il ringraziamento particolare va alla lungimiranza, al coraggio imprenditoriale di questi due grossi gruppi, appunto Banca Intesa e il gruppo Gavio, che hanno saputo guardare lontano e puntare su questa iniziativa. Naturalmente poi dobbiamo ringraziare anche tutti gli altri soci, che sono quelli che hanno partecipato alla costruzione, quindi il Consorzio Costruttori TEM, il gruppo Pizzarotti, le cooperative, che hanno contribuito sia con il lavoro che con una quota di capitale, sia pure inferiore a quella dei due grossi soci, Intesa e Gavio, come dicevo.